mancano tre settimane all'evento per cui dopo quasi due mesi dal mio ritorno ho deciso di lavare la moto visto che era ancora a sud dice abbiamo ancora tutta la terra del sud america centro america nord america alaska neve ruggine c'era tutto quindi questa me la porto per fare i giri mentre l'altra questa la esponiamo a pranzo quando si fa il salotto interattivo mentre questa che ripulirò gli metterò anche sulle borse laterali la esponiamo e basta cioè non la userò perché ovviamente non funziona e ho dovuto comprare uno sgrassatore sgrassatore super sgrassante e ora vediamo se viene fuori tutta la mugre che si è accumulata in questi mesi non solo di viaggio ma anche di parcheggio forzato l'assicurazione mi parte il primo di giugno oggi il 26 27 non mi ricordo per cui insomma la vedrete lucida e funzionante il 15 di giugno durante l'evento mi raccomando non mancate